l'801 biglietti di lotteria collezione in un album in questa busta ci sono dei doppioni per il nostro corso gratuito che poi sistemerò nuovamente nella busta e questa è la collezione vera e proprio lo stato di conservazione dei biglietti è alto alto molto alto e quindi Qua siamo ancora alla lotte. Qua già abbiamo qualcosa di più interessante, 1935, Grande Lotteria Ippica Nazionale. Qua siamo nel 37, qua siamo nel 36, Lotteria di Merano al 38, al 40, al 41, al 42, al 43, al 47. Qua siamo nel 49, io qui la data non la leggo ma presumo 48. Qua siamo sempre con la Lotteria di Merano un po' più avanti negli anni. Lotteria italiana nazionale, nazionale italiana nel 46, nel 45, al 48. Lotteria di Monza, 56, 61, 62. Qua siamo sempre con la Lotteria di Monza un po' più avanti negli anni. E qua invece sono i biglietti delle Lotterie delle Colonie, l'Automobile Club di Tripoli, Lotteria di Tripoli. Io purtroppo da qua gli anni non riesco a leggerli, però ad esempio questo è Lotteria di Tripoli del 35. 36, 37, 37, 37, 38, 39, 40. Lotteria dell'Esposizione in Roma, Lotteria di Solidarietà Nazionale nel 46, quindi già nel periodo repubblicano. Lotteria di Venezia. Lotteria di Venezia. Lotteria di Viareggio. Lotteria di Taormina, Lecce, Montecatini. La 100 miglia del Garda. Lotteria nazionale Palermo del Mare. Lotteria di Puglia. l'estrazione imprerrogabile 28 agosto 1924 grande lotteria se volete altri video informazioni iscrivete affilateli a chiocciola quattro bei occhi punto com